Luca Lottiero, grandissimo gol! Romero, mamma che gol! Il primo tempo Tras, Longobarda contro FC Abusivi, andiamo da Garbini, avete rimontato lo svantaggio con un gran gol di Pastore, come è andato questo primo tempo? Un po' faticoso, ci sono molti assenti, il nostro capitano che si è appena avverato, ci dispiace, è il nostro augurio di una buona quadricione, quindi, secondo tempo, cosa si deve fare? Cerchiamo di portarci questi tre punti a casa. Quindi servirà? Un altro bel gol, è un'altra bella prestazione. Va bene, ci vediamo dopo, ciao ragazzi, andiamo dalla Longobarda. Cognome? Passaro. Passaro, allora questo primo tempo come è andato? Meritavamo di più, sicuramente, abbiamo giocato palla a terra, meritavamo molto di più. Secondo tempo, cosa servirà per vincere questa partita? Più concretezza e tenacia sotto la porta, perché abbiamo sprecato troppo. Ok, aveva qualcosa da dire? No, no, ha detto tutto lui. Niente, se non più, è la retina. Vabbè, allora ci vediamo dopo. Siamo qui con i migliori della partita tra Longobarda e FC Abusivi, 2-1 per vinta dagli FC Abusivi. Allora, partiamo prima dal migliore degli sconfitti, D'Alterio. D'Alterio, raccontaci, visto che era la tua prima partita oggi su questi campi, raccontaci un po' l'esordio. Com'è stato? È stato bello, è un bellissimo campo, abbiamo iniziato bene, poi sul primo gol ci siamo addomentati, abbiamo fatto due partita. Uno, il primo, non ci pare il portito, il secondo, diciamo, due, assolutamente. Un buon primo tempo da parte della tua squadra, un secondo tempo in calare. Cosa è successo nella ripresa? Quando abbiamo preso il primo gol, ci siamo un po', quando abbiamo fatto il primo gol, ci siamo molto addomentati, però l'abbiamo messo, non sappiamo più cosa fare. Cosa ti aspetti da questa stagione calcistica? No, penso che andrà bene. Penso che andrà bene, siamo stati bene, guarda, la prima partita è normale, scusate. Ok, grazie, ciao. Passiamo invece con il migliore degli FC Abusili, Pastore Caviello. Allora, per te un ritorno su questi campi SK, raccontaci un po' la partita, com'è andata per voi? È stata una partita molto dura, poiché ci mancavano due nostri titolari, che sarebbero i più bravi. Cosa tre? Tre ne mancavano. Cioè, a pensare, e ci siamo affaticati un sacco per mantenere le posizioni, non sapendo se giocare di offensivo o di difensivo. Hai fatto una partita tutto campo, sia in difesa che in attacco. Ti sei distrutto a livello fisico, come ti senti? Ah, già ci sei. Come ti senti? Pensavo di non farcela, invece ho fatto anche due gol, diciamo, della partita. Cosa ti aspetti da questa stagione? Eh, speriamo di vincere molte partite, poiché abbiamo fatto già due tornei precedenti all'SK e li abbiamo persi sui quarti, sui dottami. Mentre a chi ti dedichi il tuo migliore oggi? Al nostro capitano, che ora ha avuto un'operazione a ginocchia e ritornerà verso la quinta giornata. Va bene, grazie, è stato un piacere. Aspetta, firmo, firmo. Per te Paolo! Ciao a tutti.